Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradaria regionale. Incipili rallentamenti per lavori tra Ginestra e Montelupo in direzione mare, possibili disagi anche in carreggiata opposta. Segnaliamo inoltre un incidente tra Firenze Vedotta all'Indiano e Firenze Scandicci. Possibili ripercussioni sul traffico. Ci spostiamo sul raccordo Bettolle-Perugia fino al 12 giugno. Lavori alle rampe dello svincolo di Cortona. Per consentire i lavori lo svincolo sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Bettolle. In alternativa si può utilizzare lo svincolo di Foiano della Chiana. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze ricordiamo che sono in corso i lavori notturni in via Pistoiese. I provvedimenti di mobilità sui nostri canali social. Moversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio!